Non si placano le polemiche sulla realizzazione del nuovo elettrodotto Terna, sorgente di Ziconi, in corso di realizzazione con la collocazione di nuovi tralicci nei comuni della Valle del Mela e il coordinamento ambientale e tutela del territorio del Tirreno, preoccupato per l'inquinamento, ad alzare i toni di un dibattito che per il momento vede nei fatti vincere il colosso societario. Antonino Larosa, rappresentante del coordinamento, annuncia oggi che il gruppo di cittadini non sarà rappresentato al tavolo tecnico convocato dall'assessorato regionale territorio ed ambiente per l'11 aprile alle 16. Una riunione considerata inutile, visto che la regione non sta facendo nulla di concreto per bloccare i lavori, nonostante sostengono dal coordinamento le leggi siano chiare. I cavi aerei verranno collocati infatti laddove dovrebbe essere imposto il rispetto del piano paesaggistico, dichiara Larosa. Il governo siciliano però non impone lo stop ad una palese violazione. Inutile dunque ogni tavolo tecnico quando Terna ha già ribadito più volte la propria posizione che non prevede alcuna variazione del progetto. Il coordinamento dunque non presenzierà al tavolo tecnico e ribadisce la propria richiesta il fermo immediato dei lavori nell'attesa del superamento delle criticità e dei rischi più volte evidenziati.